Davide Rauci, si muove Candy, taglio, gran palla, fuori da Rauci, che dice calma, angolo per Caranetto, contro Hitterton, miss match per il capitano, ancora miss match contro De Laurenti, si butta in lato per Rauci, palla per l'italiano che si alza da 3 punti! In transizione veloce, Mascolo segna due punti che valgono il 29 a 14 per gli ospiti, mantengono comunque un buon vantaggio, la palla nelle mani di Montano, riceve Rauci, blocco di Daniel, si va dal lato di Candy che attacca ancora Mascolo, lo fa saltare fuori per Daniel, taglio di Rauci, prova a ricevere palla, ora Montano alza la parabola per Hitterton! 33 secondi al termine della prima frazione di gioco, è dall'altra parte, sotto per l'italiano, contro De Laurenti, si dovrà far saltare, si appoggia il tabellone, è decollato ancora! Candy prende il blocco di Daniel, fuori per Amoroso, movimento sotto canestro di Sorrentino, prende palla Rauci, 14 secondi per l'attacco fortitudo, 7.33 alla fine del terzo periodo, Daniel dalla media, vuole un passaggio veloce, invece attacca a Hitterton, va su con la mancina! Candy fuori da Daniel, fuori da Italiano, Evangelisti su di lui, riceve Candy contro Calvin Martin, la metà a terra, prova ad attaccare, fuori per Daniel, ancora contro Hitterton, 6 secondi, 5, si alza dalla media, Daniel! Più 12 di nuovo per Agrigento, 55.43, voleva passi il pubblico del paladozza, dal movimento di Evangelisti, riceve Sorrentino, gioca a 2 con Amoroso che arriva al ferro! Rauci, va da Cararetto, esce dai blocchi, fa saltare Saccaggi, si alza da 3 punti! Perché l'inerzia adesso in mano bianco-blu, è inevitabile che Agrigento stia un po' soffrendo la pressione, Amoroso per l'italiano, finta di tiro, consegnata nelle mani di Candy, che la mette ora a terra, va da Amoroso, post basso contro piazza, gliela sporca piazza, Montano recupera questo pallone, 3 secondi! Montano, per Rauci, Candy vuole questa palla, non gliela fa ricevere piazza, allora si va da Valerio Amoroso, taglio di Candy, palla per Montano, blocco di Amoroso, Montano andrà 1 contro 1 con Mortellaro, si arresta e tira da 3! Candy supera la metà campo, 3 contro 3, Cararetto si arresta, non tira, non vuole tirare Cararetto, vuole far passare i secondi, perché ne mancano 43, ci sono 13 ora per l'attacco fortitudo, doppio blocco di Montano e Amoroso per Candy, si libera Amoroso, riceve, consegna Montano, 5 secondi, scatto da terra per Amoroso che attacca il ferro! Amoroso!